Vigili del fuoco in azione per liberare i tetti dalla neve che è caduta ieri. Qui siamo in pieno centro, questo è il palazzo della Carisap e come vedete i pompieri sono all'opera. Tante le chiamate già nella mattinata ma soprattutto tanta la prevenzione in attesa e sperando che non ci sia una nuova emergenza.